benvenuti alla finale zona 1 a villa carolina rappresenting europe leo rossi odello e il tifo arriva l'autunno dove colori affascinanti incontrano i giocatori più famosi del momento benvenuti a villa carolina dove la zona 1 è pronta a combattere con la forma più rock di tutto il golf ecco a voi image play per qualcuno sarà la prima volta per altri arriverà la conferma di poter gestire i duelli diretti con sportività ma con grande determinazione fino alla famosa stretta di mano bellissimo vedervi abbracciati quando tornate in clubhouse vincitori ed avversari sì ma anche amici per la pelle under 12 14 16 18 uno degli appuntamenti più giovani ed affollati del calendario uno dei trofei di inizio carriera che tutti vorremmo in cameretta siete tantissimi ma fateci fare i nomi dei vincitori scritti sulle classifiche che verranno spediti a tutti i giornalisti del nostro sport e che rimarrà nel documento ufficiale del vostro talento edoardo leo marella gabriele alice edo francesca wow che vittoria e che premiazione in vostro onore complimenti sì adesso potete raccontarlo a caso a tutti i vostri amici la finale della zona 1 è il top perché sa come farvi divertire con lo sport più bello del mondo ci vediamo presto siamo a villa carolina per le finali dell'attività giovanile zona 1 splendida cornice splendide giornate ragazzi super motivati anche se stanchi dalle mille gare che hanno fatto quest'anno tanti volti nuovi e questo mi rende felice diciamo che con la stagione che volge al termine avremo inizieremo con il programma invernale effetto di corsi per tutte le età e per tutti i livelli spero che dopo tutte queste attività non lo so abbiamo avuto due giocatori che hanno fatto la Ryder Cup della zona 1 abbiamo avuto due giocatori vice capitani della zona 1 chissà mai che ne arrivi qualcun altro in Ryder Cup mi piacerebbe passare il taglio agli internazionali d'Italia essere in un'università in America e giocare a golf riuscire sempre a giocare meglio a golf stare sempre lì in alto tra i primi posti e non mollare mi piacerebbe giocare alla Ryder perché c'è un tifo che è diverso da qualsiasi altra gara l'adrenalina che ti può trasmettere un match play a coppie tifavo soprattutto per Rory perché Sourcing è semplicemente incredibile l'Europa perché sono in tagliaia ho tifato all'Europa ovviamente bisogna tifare per i grandi la dedico a tutti i miei amici, la mia famiglia e i miei mestri perché mi sostengono sempre tutti dedico alla vittoria a Filippo swing your life